pericolo oltre pericolo 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 12 11 attacca non mi chiede il titolo per te che erano di alimento di per me roma c'è giocato fattacca 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 ma ti sta strana ti ho detto a te 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 è molto a scappur a il 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 per me la barra che sta a chiamare un'altra gente no, che ne sai ah no, ma non un'altra e la parola pericolosi diare l'ambiente per l'ultimo popolo e pericolosi pericolosi la pietra pericolosi pericolosi e' il cazzo! un po' no! oddio regà sta a morire! vieni qua! fermo, fermo! rendi camera questo! per per il cartes il primo parente la carta c alzati i cammini per quanto riguarda la carta di posto per la carta per per il percorso per la patata inizio inizio aiuto vittorio di giovani attacca vittorio No la voy Vince chiacchio will you lo sai che fai? Vai está è il video diوا canale Faccio che beccchi cosa, eh eh cos'è il latte Voi io so po' sano Na fa%, mi da ciascun. un pochino aspettiamo che fa qualcosa si passa i tre peloti giurta qua è giurta la strada ora si vede un pieno pochino con tutto il cantone fuori via ma ti guarda qui non muove non muove non muove non muove non muove non muove a a se io ancora io ma beh r pure mi rimettiamo il luogo, mi rimettiamo il luogo c'è nato si, le pose cappotta si, le pose cappotta